buonasera buonasera avevo detto avevo detto a iza che invece tomba mi prende scemo mi fai passare per bugiarda ma mi prende scemo sto gioco mi piace ok abbiamo capito che finché non finisce tu c'è un problema un attimo con la barra degli strumenti solo un attimo ragazzi quale questa qua un attimo solo ragazzoni arrivo subito questa qui ok mo si chiedo scusa dire di partire dai nel frattempo tu sistemi un po coi tag sul su cosa tu non puoi farlo niente controlla soltanto sarà live ok allora non mi ricordo qual era mi pare questa qua se vite si l'hai rifatto il maiale allora racconta ieri dove siamo arrivati allora abbiamo sconfitto il maiale dal sacco rosso che ho perso tipo 3 4 vite e off screen l'ho rifatto e sconfiggendo il maiale dal sacco rosso il vento dalla montagna è sparito esatto dalla fenix mountain è sparito il vento quindi direi di tornerà alla fenix mountain e vedi cos'è cambiato a me ti è scemo sto gioco mi spiace che non vuoi abbandonare isaac però ma teatrice dimmi se tutto ok con gli audio no non è posto dai posto 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 ch posto B sei poco viacchierone stasera? si stasera si è molto stanco non lo so perché sarà perché domani devo tornare al lavoro quindi psicologicamente mi prende molto però dai ho fatto tipo 20 giorni di ferie va bene così oh la montagna senza neve ragazzi posso usare l'ombrello posso usare l'ombrello adesso ma l'ombrello per me è una piaga perché non lo sei usare? in alcuni casi particolari piano piano io mi ricordo che posso far mangiare i maiali a ste piante non so perché e voglio testarlo ogni volta è questo con o senza vento ultimo tentativo ma ci finisci tu dentro non so perché mi ricordo al 100% che si potessero far mangiare e ti davano tipo qualcosa però magari sono altri tipi di piante nooo veramente molto più facile vediamo ma questo cosa voleva un fungo penso no è la sua lingua eh sì però cosa voleva non ne ho più pari di idea se dice funga solamente ok oh riesce a salirci finalmente senza cadere soprattutto eh non si è buo ah già che io il rosso non ce l'avevo no e manco questo ok a posto oppola ogni tanto muro invisibile muro invisibile vero eh lo sapevo dai levati questo voglio scavare ah ha finito il lavoro oh quindi aspettavo il vento che si fermasse però sta scavando dall'altra parte eh sì ho trovato del formaggio scusami e questo serviva il formaggio da dare al topo e cos'ha di diverso dal resto del formaggio che hai trovato scusa no è sempre formaggio ma allora che serviva vedi allora serve ho sbagliato se non mi devi dare 5 pezzi di formaggio 6 pezzi di formaggio dici eh no saranno 5 come ti ho detto io ieri ok dai ma che succede che è successo si è baggatissimo in teoria doveva tornare in piedi e non è tornato in piedi ok l'ho controllata sta porta questa si ok dobbiamo fare il clippino di tombi che si frinza ma hai visto ok oh tu andai tornare in piedi dovevi andare in piedi dovevi andare in piedi si dobbiamo andare prima alla cava di lava ho capito ho capito basta basta ogni tanto prendeva lo slancio l'ombrello adesso non ci dovrebbe essere più era il maiale del vento non del fuoco eh ho perso l'ombrello per un attimo quanti buck no ti giuro quanti buck vedi oddio aspetta 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 guardate per l'ombrello vabbè dove fa clare i clippini io voglio fare i clippini vabbè lo facciamo dopo facciamo postumo allora maiale dal sacco verde se no te dove può essere io dico la foresta che ride e che piange mh e dove si trova eh in giro o alla foresta dei topi cioè la foresta il villaggio dei topi io andrei lì perché comunque devi dare il formaggio a quello ti può dare qualche cosa di interessante no? se sbaglio ci sono già andato ah vediamo per parlarci no non se ne prende cosa? ma come faccio un cuore sto cuore sto cuore sto cuore sto cuore sto cuore sto cuore e allora sanno sei ce ne mancherà qualcuno eh ma perché non dice voglio sei pezzi di formaggio dice li troverai tutti formaggio in generale mhm pink è molto caldo aspetta 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 pink è veramente caldo quindi significa che pink cioè il maiale rosa è nella caverna di lava mentre il green è nella mesh la magione del lago quindi vuol dire dove stavano i fantasmi i fantasmi cioè sì quella dove sì di qua comunque nella magione quella dove era nascosto cioè era stato interpolato il vecchio dai mille abbiamo preso il sacco verde o forse diceva dove sono i sacchi e non non lo so scusa dove abbiamo trovato il sacco del maiale rosso che lui ha detto rosa è così caldo non ha parlato del maiale rosso c'è che non ne ho rapido devi imparare a nuotare come impari a nuotare? eh molto dopo devi imparare a nuotare molto molto dopo io la ricontrollarei tutta questa tu che dici? ma se l'aria dello strompino non gli fa niente mi perso l'equipo non lo so gli devo saltare in testa perché io ricordo vagamente ma proprio vagamente cosa? che uno dei cioè di questo stage qua il maiale si trovasse dove sta il lago eh dove è lago? le ho detto forse vanno a pescare ti ricordi? scusami dove sta il pescatore ti porta alla maison ma tu nella maison non puoi fare niente no e questa è l'altra maison ma non vorrei che lei parlasse dei sacchi ma prima cosa ce l'ho il sacco verde si hai preso il blu e il verde e il rosso che hai consumato già però il verde l'ho trovato per ultimo in teoria sicuramente non è dove sta il vecchio perché è impossibile qui dicevano i giochi di una volta erano facili il cacchio non si ricordi non ci si capisce niente erano facili allora qua trovate un pezzo di chiave quindi no no qua ah io qua ma posso fare una cosa questo è sicuro di volerla fare sta cosa si è andato oltre no si è andato oltre perché? ci ho provato perché? è un sicuro di trovare qualcosa l'ombrello power se siete d'accordo scrivete anche voi disonore disonore su di te disonore sulla tua mucca allora questo non lo puoi aprire poi c'era la porta di paia no poi c'era la porta di paia c'era la porta di paia si che là ci vuole il boomerang di fuoco secondo me da un'altra parte ce la siamo fatta sotto sopra sta cosa il problema di sti giochi è che appena fai una cosa diversa magari che ti cambia una chiave proprio un forzino ti devi fare tutto il gioco da capo si ho capito però ci sono fatti sotto sopra non c'era nulla niente un sacco niente sono dislessico di sti giochi si abbastanza ah 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 c'è casi dizione si quasi quasi un corso di dizione di 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 non è ah già già perché sono convinto di avere la chiave rossa no e perché sconfitto il magliale rosso ah dici senti vai da un'altra parte e vediamo qua sta cosa allora questo è design ragazzi bel design scala nulla dobbiamo raggiungere la pompa dell'acqua e va di nuovo nope la magione sul lago questa è la magione sul lago è un lago quello si si perché dovevamo pompare l'acqua per il vino aspetta una cosa io qua posso farla però c'era quella specie di diamantino rosso dentro la si ma era per una questione di esperienza vediamo tanto passiamo vale 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 e poi non ti dice mai quante esperienza oh gioiello del fuoco perché ho sconfitto il magliale rosso forse ma non era del fuoco il magliale rosso cosa serve il gioiello rosso controlla aspetta se non mi sbaglio ti fa diventare di fuoco a te esatto i capelli rossi puoi bruciare la porta di paia adesso vedi ma adesso tomba non ha più i capelli rosa adesso lo chiamano rosso e vado a fuoco letteralmente you are known fire già che si carica e ma dov'è la porta di paia l'abbiamo vista prima la porta di paia no hai visto quella la di cemento quella di paia no non dimmi che era da una parte dove non ci si poteva arrivare cioè tipo queste qua della no non mi sembra che sia in una di tipo quelle che ridono e quelle che piangono no allora io sono quasi sicuro quasi che uno si acqua no sbaglio si è arrivato al paesaggio in paradiso sono così piccolo in un ponte enorme ah alla pompa si è arrivato si 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 ah ma lo sapevi lui no certo che sapevo che qua è alla pompa ti ho detto prima che volevo arrivare alla pompa ma lo mio perché è una volta da fare questo è la nostra tipo l'immagine del fiore che esce da sotto dal nulla ragazzi game design cosa ne volete sapere voi? è poesia qua ho controllato però penso che non leggere né scrivere no chiave e vatti ricordiamo dove è stata il coso di poi spero che non sia una di quelle due porte allora la sotto no no abbiamo controllato questa qua no perché c'è il forzie dorato qua qua non ho controllato dai eccola ah non posso usare il rampino quando sono in modalità fiammeggiante e vabbè che sei tu che fai danno certo ecco pensa a te e cosa ha detto perché sei è stato fin troppo facile allora altri due pezzi di formaggio è un cesto di frutta ma secondo te il formaggio è abbastanza? quanti ne sono? sette strano numero sette no esatto il trono il trono del muoio ci insegna no mi fa solo scendere è il bell villaggio vedi se gli bastano sette numero magico messo messo niente proviamo nada quanti pezzi di cosa vuoi? non vorrei che sto sbagliando tipo la zona ma non credo devo fare un po' più dieteo no? sto cominciando a odiarlo sto tom che vuole? quanto formaggio vuoi? è dieci allora sarà dieci numero tom è intrappolato da qualche parte e l'abbiamo puliterato da qualche parte sicuramente sul lago cacchia rosa red aspetta un miracolo non so però no scusami red aspetta un miracolo al cielo come si chiamava la fontana? charity che significa? può essere miracolo e allora vuol dire che sta là ma il rosso l'hai fatto? appunto lei ti ha dato un altro indizio quindi vuol dire che lei sta parlando dei maiali non dei sacchi nella magione sul lago allora sai dove? dietro quella porta quale? quella di cemento e come fai a rompere la porta di cemento? bella domanda vuoi chiedere a qualcuno della chat ma non c'è nessuno questo lo sottolineo sempre devo cercare? veramente dobbiamo imbrogliare? no 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 dai il bello di sti giochi è che diventavi scemo più scemo di quello che sono già tremendo vado a trovare l'uomo eh dai ho capito l'uomo di 10.000 anni un buon zianotto mi chiedo dove posso usare anche le fiamme? nelle parti dove siamo andati primo c'è qualcosa che potevano bruciare? non lo so non lo so questi neanche col fuoco non so perché sono quasi sicuro no non gli ho fatto niente lascia lì sto che era quel rumore di trattore? ah aspetta però ho ancora provato con il con il rampino con il rampino e chi è il rampino? cioè con quale ragionamento il rampino dovrebbe funzionare? stai morendo la vuoi finire bene così non funziona come magari funziona con le menuse beh no ma qua niente operiamo ad andare all'alte magione e poi di fare tutto il giro perché comunque c'è il box blu che ancora non abbiamo aperto però ci potrebbe essere solamente esperienza perché? madonna santa stavo cadendo madonna santa sono caduto eh guarda come ho fatto non hai visto ho visto ho visto questa è abilità con l'accento sulla mi sa che qua abbiamo visto bene o male tutto il problema rimane sempre tipo sti cosi come si catturano sti specie di sacchi fantasma ma pensi che per adesso non lo puoi fare? tutto qui c'è altre stanze del ridi e piangi non ci sono almeno per adesso c'è quel funga no quella fa parte di un villaggio ma dai questa piange in tutti i sensi nada andiamo ad aprire quell'alte forziere di là vediamo cosa c'è quale forziere? quello dell'alte magione ah già quello che ho distrutto stamattina no? il tizio che fa così col coppo col cuoppo calma non c'è una parte del pianto giusto? quindi mi posso curare in teoria facciamo un attimo un po' di ordine ok eccolo qua l'ordine di mushroom ok vediamo qui cosa c'è niente ancora esperienza 100.000 ma tutti ti danno esperienza dici vabbè ripartiamo da dietro unica scocciatura veramente è questa veramente ti devi controllare tutto aia che botta dato si che ci sto rimanendo secco è detto da me che sono abbastanza pesante di tutto attentati proprio la musichetta va è tutto raga tutto di allora sicuramente è l'unica è il villaggio dei nani perché l'abbiamo trovato per l'appunto il cosa come si chiama il 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 maiale dal sacco rosso quindi deve essere da qualche altre parte non so che non ho la più pallida idea non sono così social che botta dove mi sono appesa guarda guarda vuol dire che c'è qualcosa e non pensavo dire però no guarda pure qua vedi non c'è niente ah sono mi sa gli agganci sti cosi forse per andare a parlare un'altra volta con i villagers vediamo se è cambiato qualcosa allora questo è sempre il fatto della patata arrostita col fuoco qua non puoi fare niente non puoi aiutare nessuno neanche a quel tizio che si sembra a far così col fuoco no che ne sa io provo a fare una cosa ma fa che a vedere se è questo non riesce da vilo infatti ma c'hai di wig questa qua avrà bisogno di buon cibo proviamo a dargli il sacchetto del cibo vediamo se funziona se no ne spiego una ok proviamo che va ma lei vuole la bacca non c'è box ma lei vuole una bacca particolare che cresce su di particolari alberi ma io non ho visto alberi particolari per adesso poi parlava del telescopio tu hai visto il telescopio sulla watchtower la vista è bellissima però non c'è il telescopio bello mio no no che significa charity contello un attimo vabbè e se allora sembra che siamo ignoranti come non lo so ho detto qualcosa aspetta torna indietro come si scrive charity cariti con la y che si avendo la bel sacco quello l'avevamo capito bisogno dei sette sacchi ok e così scrive si e quindi miracolo quello che diceva più beneficenza si inteso pure come penso miracolo ah qua c'è un buco non l'avevo visto che cosa c'era una botola e questo chi cacchio è si c'è qualcuno la lanterna si è spenta e non veda tu bruci tu bruci tu bruci bruci teoricamente buto buto allora vediamo proviamo eh diamoci fuoco no 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 la lanterna non ho capito e fu no inveti hey anyone there la lanterna went out vado che che in garanti che siamo la lanterna si è spenta e io non posso vedere e ok ma non ho un'altra lanterna zio ma scusa più di te che bruci eh non faccio luce che ti devo dire quindi tu hai una lanterna apposta mi stai dicendo vado a parlare col signor mi scusi il prigioniero che avete sotto e non ci vede più però dai che palle non c'è bisogno di una guardia vabbè ciao sai che non me lo ricordo proprio quel tizio della prigione ma io una mezza cosa io no eh ma questo che cos'è scusa non l'ho mai capito non è che no non mi posso fare nulla niente no ci metto il formaggio che ti odi che col fuoco non puoi fare niente in teoria si avviene una torcia madonna aspetta ma mi è venuto un dubbio che cosa che si è scappato una volta che tu esci e rientri scappa e perchè dovrebbe perchè dovrebbe beh stavo dietro alle sbarre e che c'è da sei spenta la lanterna no no non ci credo si ci sono esisto cosa devo fare cosa vuoi di caso e non so proprio cosa fare sono proprio bloccata bisogna trovare i maiali una lanterna comunque vabbè si poi pensiamo ai maiali poi pensiamo a questo qua allora la maison sul lago eppure abbiamo visto tutto vabbè c'era qualche porta che non possiamo ancora aprire eh tipo quella la di pietra e quella che aspetta un miracolo l'abbiamo fatta il problema il problema è che la porta di pietra come la apri tu lo scollaggente mi sa che lo puoi no appare no è qualcosa che ha a che fare credo con l'acqua qua cosa ci va eh boh mi fanno di meno puntare sopra eh l'acqua fatto che poi nuoti chi è che ti insegna a nuotare eh molto dopo tu te lo ricordi bro no no concettiamoci su quello che allora aspetta facciamo una cosa che non so se lo sai ma qua possiamo vedere anche le missioni in teoria o è solo del secondo è solo del secondo scherzavo orca miseria dobbiamo consere ah no eccolo qua event allora queste sono quelle fatte ok poi c'è the mouse pig bag trova il maiale no il maiale il sacco del maiale mouse si è il fatto per ridare di nuovo forma i topolini inumani ok no questo è il nome della missione lava capes ok seal the power to have the pig in the bag the lantern ma incontra cioè incontra la fenice e l'ho fatto e non c'è più i can't e io non so nuotare vabbè cosa è recente ok dove è andata la luce relight the lantern riaccendi la luce ma ci ho provato ci ho provato fight the monster that lives in mushroom forest red red più blu la fontana rotta la fontana rotta ecco c'è anche lo specchio rotto e chi è questo specchio anzi ma non è che della no non credo ce l'avebbe chiesto dici aspetta se mi sbaglio qua sopra c'è qualcosa scommetti oppava guarda il telescopio dove stava sopra ma prima non c'era però e che ne so io qua si dovrebbe far vedere cosa c'è al di là del mare ecco qua qua puoi vedere la ma l'isola in mezzo al mare eh come ci arriviamo oppala ecco ma in teoria dobbiamo andare a parlare col pescatore di ci porta e' l'unico che c'ha la barca e ti dice ciao elme buonasera ciao elme beh e' l'unico che c'ha una barca in teoria E' in mezzo al mare. T'ho bene, Elmer? E proviamo ad andare avanti. O più di questo. Non so. Io non so dove sbattere la testa. Io contenderei ancora bene la pianeta della Fenicia. E' infatti la pianeta della Fenicia. Prova non ti metterai a fare gli esperimenti scimi. Io mi ricordo che c'era un appiglio altissimo. Però mi pare che ci sia andato già là sopra. No, scusami. Devo togliere un'altra cosa. Sì, abbiamo visto. Figo. Quel testone. E' un po' sproporzionato, però... Beh, ci sta. A me piacevo. Mi avevo detto che è brutta. E' stata sproporzionata la testa rispetto al corpo. Si nota. Qua super ci sei andato, giusto? Sì, perché c'era qualcosa. Però da qui sei in un punto alto. Un po' di vento c'è ancora, perché ogni tanto fai saltini. No, non va più inoltre di questo. No. Il bambino l'hai fatto. E' l'unico che funga. E' l'unico. Sì, guarda che non vuole qualcosa. Gli do un fungo. Più di questo che devo fare. Ho capito, ma almeno provaci. Fai le cagate. Proviamo. Gli do lo specchio. No, gli vuole. Il blu powered. Poi questa che va bene. Pulvere blu. Il corpo... Diventa un blu. Sì. Non lo so. Lo specchio non lo vuole. Formaggio? No. No. Se c'è scritto plenty of this bring something special. E' bello dizio. Non so che darti onestamente. Il fungo ordinario. Lop. E' dilettante. Ma tu mi hai mai visto a me disegnare? Lasciamo perdere. Ma Noella sa. Come sono io a disegnare? Ma tu non ti impegni neanche diverso. Allora, scendiamo di qua. L'hai visto? Si è già sceso. Allora, torniamo giù. A questo punto sopra già l'abbiamo visto. E' ma anche giù. Siamo in un piccolo... In un piccolo... Cioè... Morto sostanzialmente. E che non si possa fare. Abbiamo sconfitto il maiale rosso. Abbiamo i sacchi per il maiale verde e blu. Ma dobbiamo trovare le porte. Hola. Io provo a rientrare di qua. No. Che dice sto tipo? Non va. Eh ma forse è quelle perché a volte lavorando con la tavoletta grafica che non hanno schermo è difficile regolarsi con le cose. Non puoi proprio andare di là. Aspetta, mi è venuta una mezza cosa in mente. Non fare cadare. No, vabbè, abbiamo solamente tre vite che posso fare più di tanto. Ma lo sai, io mi sono messa a cercare un po' di giochi e a me costano 1,99 euro. Ma guarda che basta... Guarda, guarda, guarda. Non ti puoi muovere perché come te ti paralizzasse. Ma la Fenice dov'è? Aspetta, non è che dobbiamo dare a lui qualcosa per far tornare la Fenice? Che cosa? Tu sei corra... Ma aspetta, tu hai bisogno di... Cos'è il grapple? Grazie. Dovebbe essere il rampino. Ok. E ce l'abbiamo. Appunto. Su PlayStation 3 al mese vai sullo store. Io mi sono andato a controllare qualche altro gioco per PlayStation 1 1,99 euro. Sono così. No, eh ma devi mettergli i nomi. Tipo io stavo cercando, che ne so, se tu metti Crash Bandicoot. Ti esce la prima trilogia. Coscia. Coscia. Coscia, coscia, coscia. 1,99 euro. Tipo mi sono messo a cercar te i giochi. Ho messo... Hercules. Che poi se metti Hercules non so neanche se ti esce. Ti esce Disney presenta Hercules. Dove è qua? Sempre qua. Non ci siamo allontanati più di tanto. 1,99 euro. Rusta poi questa cosa. Stare un po' con il telefono alla mano. Cercarti i titoli e vedere se li trovi. Tipo io volevo Bugs Bunny Lost in Time. Non c'è. Porca miseria. Mi sarebbe piaciuto. Quello è bellissimo. Ci avrei giocato volentieri. Vediamo se lo troviamo per emulatore. Quello deve essere figo. E poi volevo fare... Anche Point Blank. Ma è introvabile. Point Blank non si trova. Cos'è quello? È da dove uscivo se andavo giù. Ah. No niente. Qua non c'è niente da fare. La foresta delle foglie trovo qualcosa. Non ci sono andato ma no. Non credo nemmeno va. Aspetta. Ho un vago ricordo. Mi è venuta la mezza cosa in mente. Sai dove possiamo andare a vedere? Dove stava il ponte rotto? Il ponte rotto. No io c'era un botto di giochi da fare. Sul river è bello. Sul river sei bellino portarlo in live. Che veramente ha un'ottima storia. Un'ottimo gameplay. Almeno quello che ricordo poi. Figurati. Però sarebbe molto car... Sai qual è sul river no? No. Io l'ho aggiunto al carrello o me lo fa fare? 1,99 euro. Cosa? Ha detto che lui non glielo fa mettere. Se non gli esce senza prezzo gli esce. Strano. Strano. Ma me l'ha fatto mettere nel carrello. E bisogna vedere se si fa acquistare però. Credo di sì. Se te lo va a mettere nel carrello sì. Ya ya. Ya ya. Ya. Ma bella. È la PlayStation 3 bugata. Scusate facciamo così. Sì. Vado direttamente dalla campanella nei cent'anni. Ah che le ho da richiede. Eh sì. Ma è la PlayStation 3 bugata o craccata? Scherze. La 3 non dico. Sì c'era. Scii fino alla 4 se non mi sbaglio. No. La 4 è la quella politica. Dica non c'ho una console in generale craccata da la vita. Praticamente. Ulla. Mai che l'abbia mai avuto eh. Però. Almeno non acquistata da me eh. Io tutto legit. Sì. Davvero? Cacchio si è andato a venire. Ah no questo è il lago. Strano. A me ne escono. C'è cliccato sopra? Io mi ricordo dove si trova quel pezzo col lago. Lago? Ah ma è più avanti. Il lago? Sì. Che quel pezzo col ponte è rotto. E dove stavano le foglie? Ho sbagliato io. Ho sbagliato. Perché dicevo io? Perché il mollo? E manco mi dici perché stai andando avanti. Io mi perdo. Io non capisco niente. Ma è vero. E allora come? Non lo so. Almeno mi ha dato un po' di. Non saprei. Curami pecio. Diversamente giovane. Non ci offendiamo. Anche noi siamo becci. Non a quel livello. Ma siamo becci. Allora. Vediamo qua cosa c'è. La devi finire. Ci sono i maiali che ti vengono proprio addosso. Ma se ti dai fuoco. Prendi fuoco in tutta la foresta. Probabilmente. Sarebbe interessante. Beh, deve una nuova trama. Devi riaccendere il fuoco. No. Figurati. Ma io sto dando suggerimenti. Un'altra calda a rosta. Ti sono dato suggerimenti. E allora sono bisnano. Eeeh. No. Porca vacca. Che paura. Ma non gliel'avevi tolti? Io pure. Ehi. Teoricamente sì. Aspetta un attimo. E vabbè. È così. La Disney presenta Hercules. A me così me l'ha trovata. Infatti l'ho messo nel carrello. Where the barrel rolls. Ok. È quello che hai fatto prima. E vai sul barile, no? Mica sta il barile a terra. Ma no. È andato in acqua. E a che serve? Eh. Quando riesci a nuotare. Te lo farò sapere. Nope. Io ho cercato Hercules. E poi però. Il titolo è questo proprio. La Disney presenta Hercules. Che così me l'ha trovato. Io qua sto iniziando a fumarmi il cervello. Non so cosa fare. Non mi viene in mente. Dai. Non voglio usare YouTube per controllare. Tomba poi. Qua chi c'è? Un forziere rosso. Qua invece? Qua uscivi dalla porta. Per la maison. Dici? Per la maison. L'altra volta ci va. Il pescatore. No. Non mi è andato al pescatore. No. Dov'era qua? No. Ma è bellissimo. Ma quella musichetta pure. Perdo. Forse è la faesta dei fiori. Forse è qua. Senti. Se vuoi accorcio. Poi te lo dico. Dai. Veramente. No. Pessoal boomerang normale. Allora. Facciamo una cosa. C'era scritto la maison. Giusto? Vai vai. Tu parla. Vai. Dai. Non ti spoilerare. Ma io non ti sto spoilerando niente. Ti auto spoiler. Non mi spoilerò niente. La signorina imbroglia qui. C'è da dire che se non ne usciamo più. Che veramente non mi viene in mezzo. E pensare che da piccola. Allora. Io non me ne capacito. Da piccolina abbiamo fatto dei giochi. Sei andato oltre. Vero? È quello che ti stavo dicendo io. Cioè? Era il coso qua. Ah no. Mi penso che stai andando oltre qua. Non si può andare oltre là. No. Che a me è l'unico dubbio che mi può venire. Che sia nascosto in una di quelle due porte che ridono e che piangono. Ma l'abbiamo aperte. Eh. Lo so. Ma cosa c'era dentro? Cioè si poteva entrare e c'era una stanza? È la scorciatoia per arrivare alla maison con la... Eh sì. Sarebbe l'unico modo. Strano, Elme. Veramente molto strano. Oh, salvo perché sto iniziando ad accavallare le gambe. Sì, infatti. Salvo. Dovete sapere che Marco quando accavalla le gambe c'è una cosa astrale. La gente mi fa la ola. Inoltre ti fa la ola, per una congiunzione astrale si spegne la play. Quindi perde tutti i salvataggi ed è finita. Ho salvato. Allora, iniziamo con quello del pianto. Una cosa che devo fare... Avevo fatto questa a questa, mo. Quale? Una bibita da grandi. Non mi pare di no. Adesso non si può... Tipo, queste due cose si devono scontrare. Ma non adesso, però. Madonna mia. Guarda, 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 scappa. Hai visto? Ho capito, ma non adesso. Non vorrei che ti desse qualcosa che ci serve per andare avanti? No. Non mi scappa. Può vuole costruire. Ci vuoi morire? No, no, no. Va. Allora, qua dice... Devi ritornare alla bacheca dove hai trovato la missione, dove è il topolino. Ok, qua là, là su. Devi andare... E devi rileggere la bacheca. Vabbè, la bibita da grandi non è il fatto del vino. No. Sì. Questa è la strada lago di Bacco. E vabbè, sì, serve quella del vino. E qua dice... L'abbiamo fatta quella là. Il tubo nascosto a sinistra e dentro al macchinale a destra... Vabbè. Questa parte l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Il sacco del maiale topo l'abbiamo preso. Beh, sì. Potrebbe essere. Allora, sto iniziando ad entrare nella prima porta. Vediamo. E porta da... Ah, porta da dove sono i frutti. Non c'era nulla, mi ricordavo. Vabbè, ti servono. Beh, mo' mi servono. Però non c'era nulla. No. E nelmeno quella che ride. Quella che ride c'era un oggetto. Non c'era nulla di che. Ok. E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Provate ad entrare nella porta con la faccia che ride senza aver mangiato il fungo esilarante. E l'abbiamo fatto. Vedi solamente dov'è il maiale dal sacco verde. Eh, un attimo. Sto cercando di capire. Anche se io non ho prova. Qua dice che c'è un maiale nella casa stregata. E ma è questa. Ma è una stanza che ci siamo mancati. O è dietro quella porta là. La porta di pietre. C'è schifo. Questa è la casa stregata. Sì. Perché è la casa stregata questa? La chiamavano casa stregata semplicemente. Sì, sì. Poi vedi come sta combinata, sì. Poi dice Maison, quindi dovrebbe essere Magione. Ma è strano che rimanga vuota, Herme. Vabbè, veramente. Andiamo contro tutte le porte, più di questo. No, perché dice semplicemente che per andare avanti devi sconfiggere questo maiale qua. E dice che ce n'è un altro nella giungla. Vabbè, quello è dopo, molto dopo. Qua ci si può curare. Eh, ma guarda che dallo store del PC non si vedono alcune cose, eh. Perché vengono aggiornate per il fatto della PS4 e PS5. Alcune cose non le legge. Devi vedere direttamente dallo store della PS3. Perché anche a me avevo provato a cercare un paio di cose da PC ma non risulta. Allora sto unguaiato. Eh, vabbè. Non cado, ok. Sì, mi escono e non mi li fai comprare. Ma in realtà non l'abbiamo nemmeno provato a comprare noi. Magari poi a noi può essere che ci dia errore, eh. Però me l'ha fatto mettere nel carrello. Perché a te l'ha fatto mettere nel carrello? Qua si scende. Scendiamo, andiamo a vedere di là. Opa. Qui non c'è da nessuna parte, ma perché sono caduto prima. Bello sarà. Semplicemente che c'è un maiale che attiva nella casa stessa grazia. Stessa, 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 quella. Però non dice di... Nella casa scassata. L'intero è qua dietro. Però... Trovare un boomerang di pietre, ma pietre contro pietre. Forse devi usare il sacco. No. Nada. Non c'è qualche tria su YouTube? Non voglio... Ah, ok. Oh, hai fatto... Hai visto ormai dal manuale? Hai fatto 30 e fai 31. Qua? Aspetta un attimo. C'è? No. No, c'era un baule là. C'era un baule, eh? Siamo rimasti bloccati col gioco. Se qualcuno ha qualche suggerimento... Oddio. Che paura. Adesso mi sto ricordato perché perdevo tante ore vicino a sto gioco. Sì, quindi... Ok. Andiamo a scendere di qua. Le sto rifacendo tutte le stanze. Come tam pure è un bel gioco. A come vedo io non l'ho mai giocata. Eh, ti sei perso tanta cosa. Tanto. Se riesci a ritrovarlo in qualche modo... Vedi se riesci a scaricarlo ecco da qua. Suo emulatore recupera il primo e il secondo. Che meritano veramente tanto. Per me meritano veramente tanto. Tutte e due. Più il secondo. Però... Meritano veramente tutte e due. Stanno questa cosa che va in vuoto. La signora qui abbiamo dato le erbe aromatiche. Quella là che dice che vuole assaggiare il frutto. Ok. Quello che dovevamo curare... Ok. Praticamente lei ci sta dicendo che c'è un albero del sapere. Lei vorrebbe assaggiare il frutto. E bisogna tornare al mondo tempestoso. Ok. Dove c'è la faccia sorridente. Monte tempestoso. Non ci siamo ancora andati. Non ci sei andato. Sì. Non ci ha dato la piuma della carità. Il tizio che gioca nel nascondino. Tu quello hai trovato dietro la porta, no? Stava dove stava il minatore. Eh. Ok. Sto leggendo, eh. Forresta dei funghi. I topi dovrebbero darti del diserbante. Ti hanno dato del diserbante i topi? No. A me ne ho parlato con tutti i topi. Perché qua dice che col diserbante... Poi ho fatto noi indietro. Ecco come uccidi quelle melanzane, come dici te. Leggi qua. Le melanzane. Quelle che dici tu, aspetta. Ah, quei cosi, poi le meduse. Perché in questo dice grazie al diserbante che ti hanno dato i topi, possiamo saltare in testa quella specie di melanzane sospese in aria. Sono cinque in tutto. Tu hai visto delle melanzane sospese in aria? No. Le melanzane sospese in aria. Ah, quei sacchetti fantasma. Sì. Ah, guarda qua, non c'è la prima però, eh. Ci sono due persone là, eh. Il sacco arancione. Mouse Pig. Io vi odio. Bacchus Village. Dai. Stai solo pensando. Ah. Ce l'hai tu. Ce l'ha, ce l'ha. Ma non glielo devo dare. Insomma, l'avrebbe dato come missione. Ma parlavo con questi due, mortacci. Grazie. Grazie. Tu chi sei? Stai cercando una chiave? Una delle porte della magione. Sarebbe quella là di pietra. Quella di pietra. Cioè, abbiamo perso tempo. Caro tomba. Dicevi parlare con i topi. Sì. Sarebbe problemi col villaggio dell'Oho. No, Maria, io esco, veramente. E ora dove si trova questo maiale dal sacco arancione? Il titolo è la porta. Ma mi fai entrare? E che ti serve sta chiave? In teoria adesso dovrebbe apparire avendo il sacco. Aspetta, se parlo con la stagia in teoria mi dice dov'è? Ok, green, red. No, mi dà solo questi. Il green devi andare a cercare. Tu ce l'hai il sacco green. E lo so. Ma non l'abbiamo trovato. Green è nella... E nella Maison, the lake. Cioè, sulla magione del lago. E non è questa la magione del lago. E non l'abbiamo trovato. Aspetta, eh. Non riesce a finire di piangere. Devi dargli il frungo. Sì. Wow, 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 wow. Prima di Masha un forest. Diserbante? Ciao, ciao, Elmè. Buon appetito. Eh, hai mai sentito parlare di un piccolo bambino di... Maiale Coma? Mi ha chiamato il Baby Peaks, ma... Vengono chiamati comunque. Ok. Lui mi sa che colleziona i mini maiali. Che bisogna usare la... Quella specie di pianta a forma di culo. Che faceva le puzze. Ah. Sai che ancora non ho visto nessun maiale trasformato in mini? Quindi adesso... Eh... Nessuno ha dato il diserbante, sti maledetti. Allora, la casa è stregata. Io leggo intanto, eh. Vai, vai. Io sono sicuro di aver dimenticato qualche zona, ma non so quale. Io sono sicuro di aver guardato il mio giradetto. E' molto più. Eh, va. Eh... È molto più. Che troverai un fungo misterioso Che ti farà ridere e piangere a tuo piacimento certo certo non ricordo e dovessi Prima di tornare alla casa stregata passiamo per la foresta dei funghi ad aprire qualche altra cassa la prima contiene energia più poi abbiamo fungo misterioso Nella nella cassa dove l'hai trovato E alla ha saltato una cassa questo punto no Energia più e ali della carità Aveva poi avendo quel fungo la che ride e piangere che mi porta sia lontano campana millenaria Nella stanza che ride Comunque sta Cosa Il maiale Nella stanza che ride Sì Non voglio Proviamo Proviamo E' l'unica stanza che non ho controllato No devi usare il fungo misterioso Che ti fa ridere in più Certo No vabbè posso stare pure quello che riderebbe Il maiale verde lo trovi là Allora è l'unica stanza che non ho controllato perché era sicuro che non ci fosse nulla Ma ce l'hai il fungo misterioso Ma abbassa questo Ma dov'è il E' qui E perciò Tutti i bauli li hai aperti Allora sai cosa è che ci sono dei bauli proprio sotto sotto Sono difficili da prendere Questo è l'ordinare Sì l'ordinare che mi serve per ritornare male male Ci togliamo il potere della fiamma Andiamo a vedere Ho fatto apposta Non ti preoccupare Ci dovrebbe essere un baule Dove sono arrivati? Cosa sta succedendo? Quello che ride? Sì No qua non c'è niente Almeno credo eh Dopo che ride? Sì non c'è niente Allora Guarda che inquietudine Ok Perché l'abbiamo trovato il fungo misterioso? Non è che l'hai fatto cadere? No probabilmente Lo sta nel No baule blu Blu ho detto? Sì E allora sai ancora più dietro di dove stavo Ma in questa foresta dei funghi ha detto? Eh lo so No che se cade No ti riesce a notare il baule Dici? O lo perdi No ma non ho perso nulla Ne sono sicuro Ok Mi dovrei ripompare un paio di energia Però Dove si salvare? Oltre che? Allora E di qua se non sbaglio Sotto però E non mi fa scendere Devi girarti Eh lo so Dai scendi Salviamo anche A questo punto Tombo Quante vite ho? Tre Quattro Mi hai presa uno Anche vita a zero ti calcola Oh non ho presa un'altra Ma non mi pare Sì anche vita a zero ti calcola Dai corri L'unica stanza Che non ho controllato Oh l'unica Andiamo Dai guidiamo questo Cosa fa? Eh sì Mi tengo il rampino Tanto ho scoperto Che posso saltargli Semplicemente in testa L'avevamo capito Che era qua eh Oddio Oddio I miei vestiti Che c'è? Il maiale verde Mio Dio Dobbiamo disegnarli tutti insieme Sette Numero magico Ok Ok Ah vuoi restare I detriti Porca miseria Aia No allora aspetta Togliamo il Il coso qui Dov'è cacchio L'ombrello Ah Non lo vedo Poi Recuperiamo vita Cesti di frutta Eh per forza Quanti odio Usa I cesti di frutta Ciao Sì sì Ma vai con comodo Non ti preoccupare Dobbiamo sconfiggere il maiale Il puerco No Eh non era a favore di Non potevo ricatturarlo Che peccato Non sono ancora a favore di telecamera Evita È un asteroide Eh lo so Perché ha voluto Fermo fermo Ma Mo' spegniamo il fuoco Per andare nella cava Finalmente Sì Ho fatto venire a piove All'interno di un vulcano Alla fine Eh Hollow Knight Key Hollow Knight Key Eccoci qua In teoria che abbiamo Sì solamente quella parte Abbiamo liberato Ok Eh detto niente Ok E dobbiamo Tornare lì allora Sulla montagna Passaggio più veloce Per la montagna Sì per la montagna Dal villaggio che ride e piange Da qua No anzi no In teoria passando Dal villaggio dei topi Eh Dove è scoperto Mm Villaggio dei topi Non sai che non lo so Non è tutto uguale Sì dal villaggio dei topi Che male Messa Messa Hai messo la crema? No Che insame di crema Dove è una pasta Ci tengo la mia jean Ok da qua Ombrello Ombrello Ahia Però è Non l'ho fatto apposta Strike Ma dai Non ho premuto bene X 10 a 1 Che ci muoio Devi trovare qualche vita L'hai salvato No Salva la cava Salva la cava E se ci arrivi alla cava qua Come no E come no E lo sapevo Dai Ma perché Perché ti paralizza Ben ti sta che non salvi Che palle Che palle Vabbè che avresti Caricato Tu Facciamo così Do Cioè arriviamo in un battibaleno Facendo così Ma perché volano sti cosi Ma sono dalla parte sbagliata Com'è possibile Sono dalla parte Non ci perdere la vita Per un gol Vabbè Non è quello Che scende Di dove si prova Esatto Non ti trovi in linea E dai Non scende abbastanza Che poi non pesava una sorta Qua salva Oh E che bello Qua salva Qua salve Eh vabbè che serve Ma io ho solo tre vite Ok Partiamo Uh Questo che cos'è Il fiore Quella che chiedeva Per curare il cane No ma tu gliel'hai date già Uno Due Tre Voleva il frutto Che so Aspetta No Non ce l'avvicino Mi posso appendere ai maiali Ma questo cambia tutto Allora dai devo appendere a qualcosa è difficilissimo oh ho acquisito una vita e me la perdo dai una volta che li perdi sti corso dove devi andare? oh è finito il cerchietto che faccia? nooo sto ombrello di merda Eh ma serve qua Non fa niente ma serve qua l'ombardo Purtroppo E dai Siamo gli unici che stiamo facendo Tombi Sì? È tutto Twitch Ho preso al volo Vedi gli unici al mondo Ragazzi No aspetta 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 In Italia sì Ok Poi vediamo qua Però devi scrivere tomba eh Non te lo dimenticare Anneggia la miseria C'è sto tizio che lo sto facendo e Senza telecamera e senza niente Non ci piace È l'inglese Ma allora In Italia siamo gli unici Alla faccia di Apex Legend e via discorrendo Noi portiamo qualità Allora io mi ricordo benissimo Che in una di questi Cuniculi Ben nascosto C'è il villaggio C'è il villaggio del tizio Che si nascondeva Di qua Eh Guarda Guarda i segreti Tac Che è questo What the thief Non ho detto Che è il ladro Eh lo so Piccoli segreti Tu sei mai andato in questo villaggio Ma è arrivata qua Sai che non lo so Questo è il villaggio dei ninja Questo è il villaggio del tizio Dei capelli biondi L'hidea è il village Perché lei è Faiga e lui no? Perché lui è vecchio No no è il tizio che si nasconde Questo è il fratello di Yan No lui è mio figlio Ha detto Son Ah scusami Figlio Eh Dei Yan lunchbox Tu figlio se ne scappa È colpa mia Mi porta il take out Hai notato che No ci sono un po' di altri umani Non mi ricordo Onestamente Come no? Allora tu dici gli ignomi Non li consideri umani Eh no I'm so hungry Triste Affamato Affamato And then the birds in the sky Look like Shish Kaboom To me A lui devo dare la box Che non ho più Però Non ne ho una Non ho anche box Ecco qua Taro Taro è un nome Famoso in Giappone Non è una leggenda Giapponese Taro Mi ha dato altri pezzi di formaggio Quanti pezzi di formaggio ci sono Poi non poteva mangiarsi il formaggio in tutto questo Sì infatti Qua c'è un uovo Se c'è l'uovo Forse sarà intollerante al lattosio Ma che ne so Ma che ne so Ma che la puoi staccare Ti ha Quarti 2 22 e 30 Gli dimmi tu Sì dai Sì ragazzi Stiamo regolando un attimo Con gli orari Perché Domani torno al lavoro Ah già che Le pareti scottano qui Ok Ma sto cosa? Ci si poteva appendere Ma non si può rompere? Non ho la parete Ma io andrei avanti Con tutta onestà Non ricordo proprio sta zona Ma mi sa che stiamo arrivando dalla Fenice Difatti Ma povera Che è successo? Eh si è affedita Quando è caduta Buonasera Piotta Mangiato bene Eh Cosa devo fare? Siamo rimasti bloccati per un po' E poi la rivela Ma è morta la Fenice Io che faccio adesso? Come fa a morire una Fenice? Bella domanda Abbiamo sconfitto due maiali Quello rosso di ieri e oggi No mi son mangiato il lunchbox di Jan Perché dovevi dare il lunchbox alla Fenice? Eh che ne so Pensavo che dovevo darglielo Perché dovevi? No No però io ho dato il bank flower Vedi? Qualcosa gli dovevo dare Ho capito Che cosa sta succedendo qua? Respira Non ci lasciare Ascolta ma che mi sono mangiato il suo lunchbox Lui che si mangia? Come completa la missione Cade di nuovo? No no Ma c'hai i peli in faccia Come fa a vedere? Mi ha portato pure il maialino Perché gli ho detto Per dire il maialino La faesta Funga Funga Mi sono pieno di dolori Ah Che ragazza Cosa sto incontrando? Perché? Ah ma sono nemici Sono cattivi Forse devi liberare quel tizio Io me la faccio tutto quanto in aria Bravo Ti perdono i po' Che pareva Ma scusa Ma che zona Quanto mi ha tolto? Ho fatto 4 di danno? Funga Funga E no E no Mi dispiace Come i grandi Bevecchi giocatori Mi dispiace Qua ci muoio Chi è questo? E si trova dall'altra Ah ok Non riusciva da arrivarci Non casco i banane Ma Non apprenderti a cazzo Cosa sta succedendo? Go away please E anche un crock tower Ah questi E' quelli da civilizzati Cioè Ragazzi Qua si sta parlando Il mio cappello è stato Blown Che vuol dire Portato via Da Io ho solo Visto Questa è Charlie Ah scimmia E Charlie E E me è qualche Le banane Ah Mi sono ricordato Una cosa Di questo livello Cerca Charlie Charlie Charles Poi ha detto Una scimmia Deve essere per forza Charlie Si ha scritto Cerca Charlie Ha detto Si lo so La missione si Ma perché dovrebbe essere Charlie È l'unico che c'è Ho sbagliato appena Scusa Portati via dal vento Credo Ma può essere Ancora Sti pantaloni Sei di cuore Sono arrivato al massimo Della vita Più di otto Non va Se mi faccio catturare Appunto E la madonna Mi sa che mi No Ma dai Ci sono rimasto malissimo Non me lo aspettavo Posso arrivare da quest'altra parte Le banane È un po' rotta sta zona Non mi sbaglio Ma sta a peso Poi dall'altra parte Mi sa che dall'altra parte Eeeh dai E invece no Non è invisibile Sì sì no In realtà È in tutta l'avventura E te pareva Oh Charlie Mi viene a salvare È ancora la befana Voglio ancora ingrassare Sì 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 Vedo un po' Anche a piazza Voglio vedere Guarda come diventa Dove Guardalo Sì Arrivo Ho trovato Il casco del minatore Il casco? Del minatore Vediamo se gli diamo le banane Non mi serviva Ah non vuole altre banane Ciao Ho letto questa cosa qua Ma gli diamo le banane? No Ho detto non le vuole Io ho letto che voleva Il succo No no Non ci ha portato la Le A chi so se Ci ha portato il carbone No Qua non si vende Infatti qua non si festeggia nemmeno Solitamente la befana Qua non si festeggia la Santa Lucia Con i dolci Ah ah Desce a mangiarlo Ho detto che posso entrare alla torre dell'oroggio Quando mi pare La torre dell'oroggio Ah ah Adesso mi inchiando Mars Già va a mangiarlo No infatti Non ti piace Non ti piace E' amore questo show A mio cane non piacciono le mie le Merenze Non me le Merenze Ok Ok Cosa dice qua Avanti per l'Iron Castle A destra per il Clock Tower A sinistra per il Lumberjack Factory Ma io lo sai che da qui in poi le mie memorie Vuoto più assoluto Vuoto totale raga Zero Però è finito giuro Non ti armi te la fa Aspetta No no Che fastidio Veloce questo Il salito è sceso E io che lo so quello qua Ah ma è solo la telecamera Dai Sai che mi ricordo nemmeno io Manca io La torre dell'orologio Ehi Sei di nuovo tu Ma non dovevamo Vederci Ah no Sei ancora E tu No Fermo Allora abbiamo chiamato il villaggio della civiltà Ed è famoso per la torre dell'orologio L'Iron Castle E la fabbrica Scusate non trovo Le canali Se chi non provi a far che Amore aspetta Stati Scendiamo Tanto è freddo Tanto è freddo da manzare No Si mangia tutto questo Stavo un pazzo Vi ha offerto il succo No mi sa che me lo devo produrre Sì Per chiacciarli Con lo succo di banana Tiene pure pizzi Sì Il nostro cane Ci sente un botto Vabbè non fa niente Devo mutare il microfono Che devo Questa non mi fa andare alla fabbrica Questo cos'è Una chitarra di gomma Non l'avevo mai vista Alla favola Alla favola Vuole lui le banane E mi fa il ciullato Si Aspetta Questa sta succedendo Questa è successo Squizz Squizz Cioè praticamente le strizza lui le cose Oh Amore con le gambe Per favore Grazie Una nota musicale L'unboxing delle Aribo No devi fare come fanno gli influencer Devi mettere cose E poi la mano dietro Per fargli fare a fuga Non c'è l'autofocus Non fa niente Lo fai comunque Tiri 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 Milo è perplesso Lo mangio Prima sono morto qua Perché sono entrato nella gabbia E mi hanno catturato Si Ah no Di qua non devo andare giusto E dai Ma vaffanbagno Perché ci arrivano addomani Le caravelle Il banana gilis Ed ecco qui La girella Facciamo così guarda La girella di licurizia Non so se gli faccia tanto bene Davvero Meno della gelatina Guarda cosa fa adesso Ah ti insegna a nuotare Così facile nuotare Vabbè Guardalo guardalo Riesci a sentirmi Smettila di agitarsi No Di girare intorno Subito Quando tu sei calmo Puoi galleggiare Ma stai attento E adesso senza Fluffing vuol dire Vabbè Sì vabbè mi sta insegnando A nuotare Anche così Non gli piace la licurizia Non abbiamo scoperto Stavola Perché poi Una scimmia Dovrebbe sapere nuotare E oddio di Andai proprio nell'acqua E vedi dove ci porta Ma io sono un salmone Barba scura insegna Ma io sono un salmone Allora Non si vede che sono un salmone C'è un uccello Ok Poi so Un frutto sconosciuto E il frutto che devi dare la signorina È l'arbro del sapere Chiedimi Mi sa che è l'arbro del sapere Che Ah ok Ha bisogno di nutrienti E servono questi qua Che poi si riempiranno d'acqua E mi pare Però di non cedere uno dei maiali Perché questa non so se si nota Ma se ci premi sopra Alcuni lo fanno Alcuni no C'è dell'acqua all'interno Non lo sento No Adesso non ce n'è Dovrò comunque andare a uccidere uno dei maiali Dei maiali In questo caso Flopping significa dimenarsi Guardalo Non gli piace la ligurizia Guarda come scatta Sei morto Sei morto Io mi sono girata due secondi Sei morto E che ne so io Che si cadeva là E scusa Come torno a casa La campana Vole Per favore La campana Però come torno qua Sempre devo usare Sempre fa La fenice Eh ma E ho tutte le scatole Se ti togliessi Il rampino Potresti usare Lo sfollaggenta Ah Troppo easy Opa Vieni Poi non potrei fare queste cose E dai Una scarpa Ma guarda che ho trovato Io ho trovato una scarpa Sì sì Aspetta Questo è un po' doveva avere Il coso del papà Niente Però se l'è preso comunque Praticamente è come se l'avesse accettato Lo stesso la missione Questi buck E no perché ha detto Mi ha portato il cibo Di mio padre Eccetera 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 Cioè Ho Buggato la missione Sì è vero La quilla del maglia arancione E' pronto Andiamo A cazzo due Eh scusate Mi piace neanche la gelatina Non la faccio Dai la gelatina Questa è colpa sua Scusate Tutti quanti a salvatore Ma sti maiali Basta Non te lo dico Ok Aspetta Già sento Emanuela Di Tagliati La prendo No Io avevo detto Salva Ma vabbè No dovevi dire Molto prima Dov'è il sacco Qui Però è dall'altra parte Che liscio Eh Come fai No no Aia Questo muo si divena Cosa sta succedendo Porca la No Mi sono appesa la corda E che maial è questo Per la tempera Cioè la terra Troppo in alto Devi farlo prima Cavo Mi lo fai troppo in alto Sempre troppo in alto E perché non calcolo Che sta andando Verso il basso Eh Vai vieni qua Ho aspettato Che scendesse Stavolta Due in un'unica Seata Quanti giochi moderni Vi danno questa soddisfazione Il villaggio dei topi Ecco che serviva Ridiventano umani Tutte copie Delle stesse persone In realtà è una città dei gemelli Pure i gnocchi Lascia Ok Ok Fatto Stavo entrando nella trappola Ho rischiato E Ok Adesso devo capire Come torna in dietro E quel No Lo sapevo Ste cavolo di piante Guarda lì ma che Vuoi festeggiano Ma se mi tengo di blu Salva Siamo salva No Non fingere di blu Cioè dove hai pensato Che se ti Salva Salva La giungla Se ti fingevi di blu Ti lasciavo Sì Sì Ah è dei nostri Che ne sai Ok Io proverei a utilizzare La O la piuma Sì Allora La piuma mi fa andare un po' Comunque Dove che dovevamo andare A portare la Cosa Dovevamo portare Il frutto del sapere Alla signora E da lì puoi andare Al villaggio dei topi no? Come si chiamava? La down forest Per forza Sì secondo Il charity square No No Watchtower nemmeno Al dark village Gnomi 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 Non li chiamiamo gnoi Ma solo nani Quelle che le Fa lo stesso Probabilmente Non ti guardi Chi è baron No Messa È successo È venuto subito Questo è il frutto Dell'albero Del sapere Per me Me l'hai chiesto tu Fa pure È uno schiaffo Ah no ma per baron Certo Certo Un cliente Ok Cosa puoi andare Il cane E ti ricordi il cane che facevo? Non dite niente Non ho detto niente È una così bella storia Dei poteri speciali Le sue orecchie Sono veramente grandi Forse potrebbe Ha detto La volare Ma come Never ending story No E questo è Dumbo Più o meno Hai visto la spiaggia Dietro Prima Della Maison Non al villaggio Ok Quello un Tempo C'è stato un tempo Ok Che era pulita Se tu sei nell'aria potresti Prendere Cosa per me Quindi con baron Puoi votare Dove ti pare Esattamente Ma non so se già ce l'ho Cioè se già è con me No Sì Il bongo dei E a che serve? Funga Funga Vero Abbiamo portato da fungo Può essere pure il tamburo Può essere Fungo Allora prima di staccare Voglio arrivare un attimo In una zona E facciamo veloce Veloce Poi senza omberlo Ci sono ancora più veloce Oppa Oppa Stem Stem No Troppo Adesso abbiamo preso il nuoto Quindi Il gioco ha cambiato Ancora una volta Quindi devi fare Ancora tutti i livelli Di tutte le zone In cui potevi nuotare E qua E qua Opa Ma vaffanbaglio Ehm Il lago era più indietro Giusto? Era questo qua Qua sotto No qua sotto No Ho sbagliato La finisce di essere così veloce Stai calmo e tranquillo Grazie Stai perdendo tutte le vite Ma stacci tua Opa Ma C'eravamo già arrivati Non possiamo aprire Mi ricordavo però che si potesse andare sotto No Ah perché dopo impari anche a scendere Però dopo Adesso puoi andare Stanto avanti e indietro Peccato Peccato E' che peccato E' che peccato Ok Niente Salve Stacca è? Ci stacchiamo adesso Ok Signori E' stato un vero piacere Stasera Ci vediamo domani mattina Sempre con All Night Che sta diventando interessante E soprattutto Difficile E poi di nuovo La sera Con Vediamo cosa Vediamo cosa fare Non dico cosa facciamo Perché Altrimenti poi dice Eh vabbè Ma avevi detto Facevi a Isaac Non lo so Vediamo Va bene Grazie ancora Buonanotte Ciao Ciao Ciao